Non si occuperanno per il futuro delle questioni di interesse pubblico. Detto questo, l'articolo 1.10, io lo condivido, lo sottoscrivo, perché... L'articolo 416 si cerca di punire, o meglio, si cercava di punire, c'è la messa a disposizione. Infatti è fatta la disposibilità a soddisfare. E quando approfondiamo un testo di legge, si va a cercare anche il percorso. Verrà avvocato di turno al prossimo processo a dire, vedete, l'aula ha tolto la parola con unico, quindi non intendeva tutte le utilità, solo la parola con unico. Ho ricevuto una mail qualche tempo fa, ciao vi dico questa legge. E poi la settimana dopo, l'approvazione del senato, a rispetto della modifica del 416 è una norma che colpisce lo scambio per trovare la politica. Poi il relatore del PD alla Camera, questo era il deputato Mattiello, anche lui della società, comunque di vicino. E' una quinta donna, la quinta donna, la quinta donna, ce l'avevano a tempo di loro, e per andare a giocare la quinta donna. E quel bel castello, nulla si sa di ciò che si vissero. Peccato, la fiamma sarebbe stata molto interessante. E' stata solamente una cosa, che da quel giorno vissero tutti felici e contenti. Vici, figliere, cattolidiano, e poi se lo facciamo. Grazie.